Arlotta questa mattina, una madrina ecosostenibile? Esatto, e sono molto contenta di essere stata madrina per questa manifestazione perché sono temi molto importanti, è molto importante anche sensibilizzare le persone. Ecco, sei la prima che accede alle semifinali di Miss Italia, che emozione è stata quella? Ricorda, se lo racconda. È un'emozione fortissima anche quando sono stata proclamata su Rai 1 la notte dell'ultimo dell'anno. Per fortuna c'era Carlo Conti che mi seneva la mano forte, però vediamo come andrà, spero. Insomma, io mi impegno e vediamo un continuo. Quali sono i prossimi appuntamenti che ti aspettano? Allora, avremo una selezione qui ad Arezzo e poi altre manifestazioni dove farò la madrina e poi la finalissima, insomma, la prefinale a settembre. A settembre? Hai bastato deciso la locale quando è la finale? Ancora no. Ok, a questo punto un invito a tutti gli aretini a seguirti nel tuo percorso. Se sostenetemi, sono aretina, sostenetemi.